Ci sono delle novità, ci sono dei lanci in anteprima Sentiremo parlare di stile bagno, sentiremo parlare di multimaterialità Giovanna Taloci e Massimo Giosaghin Questo Duralight ha una sensazione proprio a pelle molto naturale Permette di lavorare con una materia particolare, quasi naturale, come se si scavasse la pietra Ma con tutti i vantaggi che questa tecnologia dà Quindi poter fare qualunque tipo di forma Seguire tutte le indicazioni di carattere ergonomico funzionale E sbizzarrirsi con la fantasia Portarmi dietro una parte, una mia storia Ma soprattutto capire che con la materia e con la tecnologia si potevano fare cose nuove Interpretare le nuove esigenze Non solo di fare dei singoli prodotti, ma di veramente arredare il bagno E questa idea di ragionare su un bagno che fosse accessibile E' un oggetto essenziale, ma morbido Morbido perché deve relazionarsi con delle morbidezze, con l'uomo Il progetto è stato coniugare la rigidità necessaria di questo tipo di oggetti Quindi la tecnologia all'utilizzo dell'essere umano Anche la sostenibilità ha una sua estetica e quindi deve essere una sostenibilità bella Il nostro materiale, il Duralite e la fill, rappresenta l'Italia, Shanghai e l'Espo Choose your site, quindi estende il concetto del Duralite al fatto di poter fare prodotti customizzati Sistemi bagno che possono adattarsi, essere plasmati per le scelte personali di ognuno di noi Creare delle partnership forte con un solo obiettivo Quello di dare il massimo servizio e la massima soddisfazione all'unico cliente Credo che quello che alla fine spende e non ne ricava niente se non il gusto di avere il prodotto giusto a casa propria Tempo e la bellezza per te è il tuo bagno Noi vogliamo rendere bene Voi, i nostri clienti e i nostri bagni Tutti il tuo bagno до l'intensito Tutti il tuo bagno Tutti il tuo bagno Tutti il tuo bagno Grazie a tutti.